... La nonna mia, tant'amica, l'uscita c'è, la città, la città, la città, la città. Ehi, dite le cose! Poi, non ho fatto, non vedo i numeri che ci sono anni, non vedo i miei secondi genitori, non vittise le nostre estremo, perché gli altri non sono buoni, maggiori, grandi, 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 che sono trovati buoni. di noi famigli, vogliamo stare vicini, le mani o le mani, insieme camminiamo, non ci sono , guarda, 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 bravi, grazie, adesso cosa è che cantiamo, adesso? Ma non è da amarlo, insieme camminiamo, le mani sorpreziosi, perciò li ringraziamo, perciò li ringraziamo. Grazie.